Tramonta il sogno scudetto della norme canica volley, in gara 4 della finale playoff le piacentine sono state travolte da Conegliano al Palaverde di Treviso, dove si è chiusa la serie con le avversarie che hanno conquistato il primo tricolore della loro storia. Niente miracolo sportivo quindi per le ragazze di Gaspari che hanno ceduto per 3-0, 25-21, 25-18 e 25-20 parziali, sotto di due incontri sabato sera le speranze delle piacentine si erano riaccese al Palabanca, ieri però non c'è stata partita. Finisce una stagione intensa Nesco con un po' di rimpianto, ha dichiarato alla fine l'allenatore Marco Gaspari, perché potevamo e potevo fare di più, devo lavorare per crescere, ci riproverò sicuramente la prossima stagione. Le piccole disattenzioni hanno fatto la differenza tra noi e loro. Applausi ha concluso il mister a Conegliano perché si merita il titolo.